Sono i fatti che poi aderiscono a... Noi non ci abbiamo mai pensato, come era successo in qualunque mente, tutta questa cosa del Ruby Gate e chi se ne frega. Noi il film l'abbiamo scritto due anni prima, cioè è arrivato poi e si è incollato. E così anche in questo. Noi l'abbiamo scritto un anno e mezzo fa, quando è stato, sei mesi, sette mesi fa, quando sono successe tutte queste feste con i capitelli, con le cose romane. Noi all'interno del film, un anno prima, ma sono storie, attualità, la realtà che si è incollata alla storia. Poi di conseguenza, cosa vuoi? Non puoi, almeno io trovo, e lo facciamo da un po', molto interessante e comico rappresentare un certo tipo di politica che da qualche annetto ci gestisce. È chiaro che partiva da lì, ma se poi alcune particolari allucinanti si incollano, beh, paziente. Però, e questo chiedo anche a Lorenza un contributo, voi siete degli artisti, siete degli attori, dei sceneggiatori, però degli artisti. L'arte, per sua definizione, sfugge anche a chi la fa. In qualche maniera, questo film, anche il film precedente, forse voi non immaginavate quello che sarebbe successo, però poi è accaduto. E allora un artista come si pone, Lorenza? Sono da fonte. Sono da fonte. Sono da fonte, no. No, diciamo, si dispiace come essere umano, come individuo e come, come dire, persona che vive in questo paese. È evidente, io ho interpretato una donna di un certo tipo e mi auguravo che, come dire, che fosse un po' anche un esempio. Io mi ricordo con lui, facevamo la prova costumi e lui era, mi guardava e diceva, no, allora è così, no, dai, è esagerato. Cioè, non puoi andare in gioco. Non è più realistico, cioè non è più credibile. Sì, è troppo distante, invece. E invece, come dire, hanno anche superato, come dire, la realtà. Quindi, sai, a livello di artista, lui, soprattutto lui, perché è lui che scrive il film e che, insomma, racconta questi personaggi, parte da un presupposto, tutti i personaggi di Antonio, secondo me, anche quelli che fa in teatro, partono da un presupposto che la sensibilità di Antonio sviluppa nell'osservazione della realtà. Poi li fa in maniera anche un po' surreale, un po' superando, prendendoli in giro, e poi dopo se questi si incollano a lui non... Ma sai, da giù al nord, dal mio spettacolo del 97, dove ho cominciato ad adottare un certo tipo di grottesco, un certo tipo di... Questa cosa, pian piano, è stata, si è parallela, la vita reale si è avvicinata a quel grottesco che invece noi italiani siamo sempre stati capaci nella comicità di trattare. La realtà, pian piano, ha superato questa forma, che è diventata un po' psicadelia, ormai. Ormai siamo a veramente un quarto d'ora da un esaurimento nervoso. E capisci che esagerare vuol dire, come ho detto prima, portare dei draghi, delle navicelle spaziali, ma non mi interessa. Cioè facciamo il bar di guerre stellari, se tu vedi un certo tipo di governo, insomma, che rischiamo di riavere. Sembrava ogni tanto, quando li vedevi lì sugli scrani, sembrava il bar di guerre stellari. Proprio di... E questo noi non ci possiamo fare niente. Noi dobbiamo individuare e captare. Ma è stato in corsa, siamo stati raggiunti da questa veramente follia. Allora in che modo si può, non dico combattere, ma comunque affrontare? Secondo me, come è successo in qualunque mente in questo, e sono particolarmente felice, non te lo nascondo, con l'ironia. Cioè cercando di ironizzare su di loro, di far notare che sono ridicoli, ignoranti e cattivi anche. Perché l'impressione che hai è che la gente non si renda conto di questo. Cioè per come vanno le cose in questo paese, tu pensi che la gente a questo punto non si rende conto di come sono le cose. Allora magari forse vedendo il film, come è successo a una giornalista che ha detto ma le donne mica sono tutte così. Oh! E c'è una che finalmente ha capito che le donne non sono tutte così o che il mondo non è quello che viene. E forse se un film facendoti ridere ti aiuta anche a, come dire, un attimo ragionare sulle cose, forse non è male, no? Ma è dalla notte dei tempi che nei momenti comunque di crisi e non solo con paesi con regime o senza regime la comicità ha sempre cercato di alleviare, ha sempre cercato, come dire, di formare gruppi, di solidarizzare, di formare, di trasmettere il proprio pensiero per aggiustare, per ricorrere il buonsenso e tutto. E questo è un momento, secondo me, talmente grottesco e tutto che ha avuto in questi anni e continuerà ad avere bisogno di questo. Poi è una questione di gusti, che c'è chi capta in un modo, c'è chi non fa il salto, c'è chi ama per pigrizia captarlo in un altro. Ma guarda che stanno esagerando. Siamo tutti telespettatori per fortuna diversi. E quindi, e certo, poi quando si esagera, si arriva a certe follie, nessuna forma d'arte riesce ad eguagliarla. Mi ricordo una volta, scusa, a una puntata di Fazio che ti ho visto, lui faceva scettolo qualunque, non so cosa era successo adesso all'episodio politico di quella giornata, ma mi ricordo che lui arrivò lì, iniziò, troppo alla fine, si tolse la parrucca e ha detto, no, non ce la posso più fare. Cioè, è una competizione senza pari. Cioè, non si può, perché sono troppo, alla fine non so più che inventarmi. Sì, perché nel cinema, come nel teatro e tutto, c'è il corpo, c'è il testo, c'è il movimento, ci sono... Allora, può essere molto più elementare se vogliamo giustificare delle cose con un segno o con un'installazione, quello che vuoi. Noi abbiamo bisogno e in un certo senso c'è sempre realismo, si parte sempre, c'è inserito del realismo. E quindi di conseguenza uno dice, ma caspita, ci sei tu, perché quel tu, quell'essere, poi diventa un'altra cosa? È chiaro, da spettatore, uno dovrebbe, come dire, onestamente, magari se conosce quell'attore o quel regista che fa, visto che ha sempre lavorato con... avere fiducia in quella cosa e andare oltre e immaginare che quello scalino è stato scavalcato, perché è sottinteso che tutto questo è sbagliato, capito? È sempre diverso, però la nostra intenzione, mia almeno personale, è di andare avanti. Io non riesco a fermarmi, perché se mi fermo mi abbandono. Cioè, di andare avanti e di continuare, chissà cosa sarà poi. Boh... Grazie a tutti.